Allora, devo fare la domanda di Rito, oddio, devo fare la domanda di Rito Fazzocco, chi vuoi stare, con chi non vuoi stare? Non con te, non con te Non vuoi stare con me? No, 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 no Ah, con chi vuoi stare invece? No, è uguale Sia Marzo a Cozzano, ok Ma è uguale, è uguale Marzo, con chi non vuoi stare? Non voglio stare, no, con nessuno Marzo, ne devi di uno, porco Dio No, io, ma mi fanno andate bene tutti, perché vi devo dire no? Ma a livello, ma a livello, non è, non la prendiamo personalmente A livello tecnico di videogiochi No, ma è proprio anche a livello di giochi Guarda, io preferisco avere Zano, perché non l'ha mai fatto E quindi avere dall'altra parte uno che fino a mo' l'ha tipo sempre vinto Magari gli farebbe comodo Va bene, ok Io voglio stare con Zano Perché Zano sui videogiochi dà sempre il meglio di sé Quindi io voglio stare con Zano e non voglio per nessun motivo stare con il fazzone Guardiamola Giriamo la ruota per scoprire il primo Ragazzo che è Francesco Dabbari Che senza volerlo è anche giallo Incredibilmente Il più potente di questi tornei Te prego Giallo, giallo, stacco giallo Quindi mi è più orfazzone Magari, Marzò Magari, Marzò Magari, Marzò Magari, Marzò No, no Buonissimo Buonissimo, buonissimo Giallo, giallo, qui è sfatato Qui lo vinci E qui, mo, se perdi Non c'è spesa Se perdi è finita per te, giallo A few moments later Ok, andiamo a levare il cruciverba 1-0 Ottimo Andiamo a vedere il secondo videogame Che speriamo sia un gioco Magari un po' più movimentato Che è un Ma lo deve Un milionario Oddio Allora, Fazzò Il primo lo chiamate voi Quella prima cosa che volete Regole Volete muovervi o no? No, no Senza muoversi Oddio Non so che si potrebbe Chiamare pure Strade di Roma Quello lo fammo dopo Chiamo a Stati Grazie per i sei Grazie per i due Stati Aspetta, adesso arrivo Che mettiamo 6.000 di vita Senza guarizione 6.000 di vita Sì, con i life points Sì, sì Secondo me 6.000 ci sta Ok Vado? Sì Amarzo Facile Sui stadi Sono un fenomeno B-Chilling Anche perché Io ti faccio Dove sono le città Già ti dico una cosa Stoccarda Stoccarda Germania Stoccarda Germania Non so precisamente Dove sta però Stoccarda Qua Riesci a trovare proprio Lo stadio? Eh Mo Lo stadio lo cerchiamo Però la città C'è l'ho E c'è l'ho MP Arena Hai trovato? Bravissimo Giuda Grazie per gli otto Com'è? Sì, la foto è da qua Sì, fidate Tra star molecolare Preci Allora, questo tecnicamente Lo trovano Bing Anche loro Mi auguro Sennò il livello è veramente 7373 7373 Vabbè Hanno messo Hanno messo All'incirca Barsley È Inghilterra Inghilterra Non so So che è Inghilterra Per le targhe Però la città Non so Eh la trovi La trovi Marzo La trovi Barsley La troverai Città Ah, loro l'hanno già trovata I fenomeni Eh, se lo sanno Vado vicino Londra Io non lo so Perché non so dove è Metti tu e io mi baso su di te Così che prendo un'altra zona Allora mi metto vicino Birmingham Ho preso io Ah, però da finora O a Londra Sì Eccolo Eccolo che fa 400 di danno Con la sua Con gli elfi gemelli Marzo, siamo sotto un cipresso Non ne ho la più pallida idea Calma, calma, calma Fammi ragionare Allora, tecnicamente ci sta Un parcheggio per disabili Potrebbe anche teoricamente Essere San Siro Forse una zona che non Stanno facendo La tecnica che mettono A cazzo di cane Nella speranza De beccata meglio Ma per me stanno in America Sì, pure secondo me Frate Mo, io vado vicino Chicago Io avevo Winnipeg Non l'ho messa nemmeno Ai, 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 ai Era aperto Ah, l'hanno preso Ah, no, beh L'hanno preso De poco Vabbè, sono andate a Sidney Non ho sbagliato quella Vabbè, dei fenomeni Frate, come hanno fatto Però Australia L'hanno preso Mu, ananasa No, la Zambia E questo sarà Zambia, Marzo Eh, Zambia, sì Sarà Zambia Mu, ananasa Sarà la città della Zambia Mu, ananasa C'è l'ambue Lu, anjishi Capiri, ma monshi Mazambuca Na, mu, anuala Ah, metto Allora io metto qua Se t'hai messo là Madonna Ah, ma guarda C'è stata proprio la città Anzola Non l'ho vista minimamente Ci fanno un 17 di danno Polonia Polonia, loz Conosco la città, Cil Sì? Sì Cerca il coso Lo faccio per fare veloce Magari loro non trovano la città Trovano lo stadio Eccolo Ecco, eccolo Lo vedo, lo vedo, lo vedo Bravo, bravo Bello sei Eh, ma lo sanno Oh, ma l'hanno presa Eh, lo sanno, lo sanno Lo sanno Ma so, dei fenomeni Sì, ma che Presi, grazie per i quattro Migliorato Vota con K Ehm Chicago Bulls America Non Chicago Bulls Grande ciolo No, no, no Però Bulls America Sì, comunque Chicago Bulls Sì, no Sarebbe Chicago Però Sì, no, sì Ma non è Chicago Bulls Chicago Bulls Sono rossi Li conosciamo bene Beh, io la metterei Uno su Chicago Ci andrei Vabbè, io ce ne vado Così nel caso Tu Vai Sperimenta Non lo so Ah, fratette Fidi, questa sta nel Michigan Mi sento caliente Fidate Arlof Anche a me non Sembra l'America Vedi Eh Te sembrava l'Africa Beh, ti dico Poi, vabbè Poi tu lo dico No, avevi visto Qualche roba Dele macchine storta Bayer? Sì, Dubai, no Mi sembra quello Del Bayer Questo In realtà No Come il Bayer No, non è Bayer No, però È biglietterin C'è scritto Mi sembra che è francese Sì, parking jour Ah, non lo so Uno va in Francia Uno va in Canada Vai tu a Montreal Mi raccomando, eh Do star in Montreal Ah, lo vedo, lo vedo, lo vedo Io vado a Tours Nuovo aspetto a mandatelo Eh, ho fatto una capella Era più vicino Allo Ti sono stati dell'Ile Boh Ma che stati so Allora Ma che è sta merda Questa potrebbe essere Non vorrei di cazzate Potrebbe essere Scozia No, è cerchetto C'è scritto Punto IE Tu stai scritto Punto IE È su una macchina Punto IE Mo non mi ricordo Che cazzo era È Irlanda E potrebbe essere O Irlanda È Irlanda Ho paura di Svezia Se vuoi vai in Svezia Ma questa è Irlanda E ti dirò di più No, no Zì, tocca andare per forza A Dublino Vai in Irlanda però Non sarà mai Dublino Invece è Dublino Invece è Dublino Zì Me ricordavo Hopless to Under Earth Frate È una È una Cosa di De musica pure Eh, questa è Arabia Lo Sharjah FC Ha appena acquistato Un giocatore per 50 milioni Gli offre 100 milioni l'anno Teoricamente Senti Però me devi trastare Io vado a Doha Tu vai a Dubai Do sta Dubai? Qua Ok Lo metto fra te Ho guardato dove lo metto Sì, esatto Una zona un po' arida Qua Preciso Vicino a Alkuwaz Lì Bang A casa A casa Il danno di Slifer Re dei Cieli Alkuwaz Sta male Sì, sì Mi hanno fatto Una piccola offerta Lo Sharjah FC Sì, sì Sotta comunque Madonna Beh, uè Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Torma Arancia Torma Arancia Torma Arancia di Arcadia Ma te ci fa star 160 Arcadia non fai i placement Non ne parliamo, guarda Eh, questo è il fazzone se lo sa o prende pregio Non è una roba Sì Ti bolla Ti bolla Ti bolla Ti bolla Ti bolla Ti bolla Almeno non li fai ragionare Almeno non li fai ragionare Per favore No Ti bolla Ti bolla Ti bolla Aspetta che sto a vedere un attimino se Se ormai Spawner mercati Mercati Spawner Vabbè Stigraziamento qua Sua piazza Brava Ah, è giusto che la sappiano Alla fine Popolare Cesar è andato con Franchine Il criminale Ma non puoi mettere Mezzo in Roma Sta roba Porco Vabbè La Magliana Magliana vecchia Parco de' Medici Qua stai andando Stai andando Coso Stai andando Al cinema Aspetta Porco Dio Questa la posso trovare Precisa La posso trovare Tra stevere Ma perché se riuscissi a trovare un attimo casa mia Zio porco Sarebbe tutto più semplice Ah sì Ah già Madonna Mannaggia L'ho trovato Hotel Rome Sheraton Parco de' Medici Metti 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 L'ho messo già Madonna Ma così lontano sta Allora è qui Eh no Era un po' Un po' più esatto Più a destra Bravo però Bravissimo però Bravissimo però Gli hai fatto male Era più a destra Hard space Non mi veniva il nome Hard space Malissimo Ormai so Ho abbandonato le mie radici Completamente Lo facciamo sui letti e sui divani Lo sconto del 50% A te Fai il pieno con i saldi A Roma Est A te Questa è Roma Est Ti giuro E questa è la strada Panna a casa Frate Questa è il quarticciolo Questa è zona Prenestina No tu vai vicino a me Vai vicino a Dostrano Io È la strada Panna a casa Ti giuro Eh l'ho già messa Marzo Un piccolo Va bene E là va bene Il cuffello Era vicino Vedi che eravamo vicini Eh ma raga A me non mi piace Farmi caccolte la Eh addio Io non lo so Marzo Te ferite me Andiamo a cazzo De cane Questo sta Per giusto Fora Questo sta Sull'Ottavia A meno che non è tutto A destra Ma E la logica Del maestro Ahiaiaiaiaia Cristiano È proprio di casa Ma 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 Cazzo Sto a vedere Fenomeno Ma Ma Tu Ma Grazie Che non Sono riuscito A cliccare Porco Dio Casa mia L'ho Zio D'America Dio Non l'ho Cliccato Prima Adesso È a sorteggio Perché Abbiamo scelto Una testa Per la terza La bella Bisogna Andare A sorteggio Quindi Scegliamo Un paio Di mappe A testa E poi Facciamo Casuale Non ce posso Crede Emilia Romagna Sì lo so So precisamente Il ponte Questo è il ponte Dell'Emilia Romagna Sì Lo conosco Benissimo Ovviamente Non è vero Non ho la più pallida idea Di che cosa sia Io vado Vado veloce E non ce penso Che te che hai messo Marzo Io ho tornato Indonesia No Ma che Indonesia Oddio Sai che forse Sai che te direi Ti direi proprio Una roba tipo Maluku Questo è Qua roba dove prendono Sembra la zona dove ha preso Monchen Allora Questo dai Questa è roba Questa è roba Di Irlanda Roba di Scozia Roba di quelle zone là No Potrebbe addirittura Essere Cru Inlandia Però c'è un nome In cielo Con scritto Viktor Poznov Che mi sembra un nome Particolarmente russo Dici potrebbe essere Una zona della Russia Tu vai Islanda Irlanda Io vado A Russia A caso Guarda dove vado Bangete Novacca Camelia Mi avevo detto Irlanda Ma perché non ci sei annato L'ho detto anche io Irlanda È questa la verità Non mi sono affidato De me stesso Queste sono case palesi Da Dublino No non Dublino Non è vero Queste sono case palesi Va c'è prova È Nuova Irlanda Dici No io ho messo Francia Però E se tu vuoi vai quello Io andrei in Svizzera O cosa del genere Svizzera no Svizzera no Cosa Ma com'è possibile Ah questa è Cape Town Oh mamma mia Ma che è Allora questa è mensa Marzò Allora città Costiere Con grattacieli Davanti al mare Io vado a Sao Paolo Cilberti il Naro Me sa E non sa Paolo Rio Io vado Rio Tu vedi Se ta senti Perché me sembra Però oddio Non vedo Favelas Ah frate Te fidi de me Questo è Antofagasta Questo è Antofagasta Frate Rassa il molecolare Nel Chile Che era? Tanto domingo Vabbè Gli hanno fatto 209 di danno Frate Hanno provato Attacca a mura Labirintica Bello Ma che è fallout Porco Dio Che spettacolo Ma perché Marzò subito? Io si Mi sembra proprio Zona d'esclusione Frate Hai sbagliato Era sopra il Moldova Era un po' più in qua Era vicino a Camelo La vado Madonna Francia Francia Marzò Francia Francia Tu dici Francia? Sì secondo me è Francia questa Tutta la vita verde Mettila Mettila C'ha delle cose così C'è un paesino vicino Questo sa De Francia Tantissimo Io vado qua Vado in Belgio Secondo me questa è roba De vendome È tipo qua Bangate Signori e signori Come vincere Suggerò che esser Dari al Marza Ci vede lungo E affonda così No però Non li seguiamo Non li seguiamo ancora Questa dai Questa è roba tipo Roba di alta Questo potrebbe essere Croazia Marzona Roba lungo a Croazia Senti Non mi chiede Per quale ragione Arcana Ma io Voglio andare In Canada Invece Ci vedi lungo Però frate Io andrò in Cusdassi Signore e signore Raccumperate Il più bello di tutti Il più elegante La mette lì Dove sa che In zona C'è la vittoria Perché mi guardi Storto Alzo le braccia Al cielo Stile Totto